Storie della guerra di Hogen Parte 9 Fuga Ieiro e Mitsuhiro si recarono dall'imperatore ritirato Sudoku e, senza smontare da cavallo, gli annunciarono che ormai la battaglia era perduta, ed egli gli implorò di salvargli la vita. Fatto convocare il basso consigliere Nari Izumi, gli affidò la sua spada e poi montò a cavallo con Nobuzane che salì dietro di lui per sostenerlo, e Nari Izumi no Son fece lo stesso per Fujiwara no Yorinaga, e partirono alla volta dei Miidera, mentre i figli di Tameyoshi coprivano loro la fuga scoccando una pioggia di frecce, fino a quando non fu lontano e poterono così ritirarsi. Tra gli ultimi cinquanta guerrieri rimasti, l'ultimo era Tame Tomo, che si tirava al trotto, voltandosi intanto per scagliare una freccia a chi osasse seguirli. Teira no Ieiro, morto nel 1156, figlio di Teira Masairo, del ramo dei Ise Eishi, ovvero dei Teira, sua moglie era la figlia di Sadayoshi, Kazueno Jo, e il suo grado era Jugo No Ike, capitano dei custodi delle porte. Il suo clan discendeva dal fratello minore di Masamori, il nonno di Kiyomori, Masazumi, e aveva la sua base nello Shinano. Era balletto dell'imperatore Sutoku e nel 1152 catturò Minamoto Mitsuyoshi, che aveva fatto un'irruzione nel palazzo dell'allora ex imperatore Sutoku. Nel 1156 venne nominato da Teira Yorinaga assieme a Minamoto Tameyoshi come Ogandai e postò a guardia del cancello Kazugamon. Scortò l'ex imperatore Sutoku in fuga, insieme al figlio Mitsuhiro. Narizumi potrebbe essere Kuramitsu non Narizumi, vassallo di Kisho Yoshinaka, il cui fratello minore, Nariuji, sarà ucciso da Seno Notaro nel 1183, oppure potrebbe trattarsi di Togashi Yasuie, figlio di Ietsune, il cui clan discendeva da Fujiwara Okke e Toshihito. Nel caso sarebbe il funzionario della barriera di attacca, protagonista del famoso episodio con il monaco Benkei Yoshitsune, avvenuto nel 1187, dato che in seguito alle accuse di Yoritomo, costrui si fece monaco, cambiando nome in Togashi, Sigazumi o Narizumi, e che in seguito fece Seppuku come ammenda. Il Miidera è un altro nome del tempio buddista, Orinji di Inara. Nobuzane è il monaco Sengaku, figlio di Fujiwara Morizane, del ramo Kajuji dei Fujiwara del nord, fratello di Akinori e della madre di Yorinaga. Nel 1153 entrerà il Kufukuji di Inara, ma nel 1156 si schiererà con la nipote Yorinaga e l'ex imperatore Sutoku. A causa di ciò, a fine conflitto, le sue terre saranno confiscate, da non confondere con Fujiwara Nobuzane, 1176-1265, figlio di Takanobu e famoso poeta e pittore. Ormai Tame Tomo era lontano, quando decise di tornare indietro al galoppo e di scagliare una delle sue grandi frecce fischianti, mandandola a conficcarsi nella porta dello Shogo-in. Poi raggiunse gli altri. Delle 112 frecce che aveva tirato, tranne quella che aveva rotto l'elmo di suo fratello Yoshitomo e quella che aveva rotto il ginocchio Oba, non ne aveva sparcata nessuna e molti erano quelli che avevano perso la vita per sua mano. Grazie alla copertura dei suoi guerrieri, l'imperatore ritirato Sutoku si era allontanato dal pericolo, seguito a breve distanza da Yorinaga, quando, non si sa da dove, una freccia dall'impernatura bianca lo raggiunse al collo. Narizumi l'estrasse e il sangue iniziò a zampillare e la verde tunica di Yorinaga si tinse di rosso e l'egli, sentendosi venire meno, scivolò dal cavallo. Narizumi, cadute con lui, cercò di sostenerlo e un momento dopo Narinori palazzò giù dal cavallo, gli coprì il volto con la manica e scoppiò a piangere. Gli occhi di Yorinaga si muovevano ancora, ma non riusciva a parlare. Yehiro lo fece annunciare a Tadamasa, che cavalcava di fronte a tutti, in direzione del Matsukasaki, ed egli si affrettò a tornare indietro. Fujiwara è nato da Masa, 1129-1193, figlio di Tadamone. Avendo perso il padre in tenere età, fu cresciuto dallo giro eterno, Fujiwara Ienari. Era uno stretto amico di Yorinaga, ma dopo la morte di quest'ultimo, nel 1156, stringerà legami con Taira Kiyomori, riuscendo a far sposare suo figlio Kanemasa a una figlia di Kiyomori. Quando Kiyomori nel 1168 si riterrà da Daijo Daijin, gran ministro, sarà lui a succedergli, fino al 1171, quando il ruolo passerà a Fujiwara Motofusa, a cui aveva fatto sposare un'altra sua figlia. Grazie alle sue politiche matrimoniali, gettò le basi per lo sviluppo della famiglia Kasano-in. Cercarono di rimetterlo a cavallo, ma era troppo debole. Allora decisero di trasportarlo in una casa dei paraggi, dove tentarono di cauterizzare la ferita. Approfittando del fatto che i guerrieri dell'imperatore Goi Shirakawa non lo sapevano e si stavano dirigendo verso l'engakuji, Akita Shirakawa, Tsunenori fece venire un carro sul quale deposo il riferito, per poi mandarlo verso Saga. Lì, cercarono il monaco di servizio alla residenza di montagna di Akinori, padre di Tsunenori, ma non lo trovarono, perciò portarono il ferito in una casa vicina e, dato che era calato il buio, vi trascorsero la notte. Fujiwara Tsunenori, figlio di Akinori, del ramo Kakuji dei Fujiwara del nord, era fratello di Morinori, Norichika, del monaco Genke e del monaco Noe, ed era Kurodo no Daibu, maestro dei ciambellani. Era cugino e consigliere di Fujiwara Yorinaga, militando nella sua fazione nella guerra di Owe, 1156. Intanto, l'imperatore ritirato su Toku, aveva raggiunto il monte Nioi e, avendo saputo del fatto di Yorinaga, iniziò a disperarsi. Volendo raggiungere il Miida era, essendo la montagna impervia, scese da cavallo e proseguì a piedi, ma non essendo abituato a certi sforzi, i suoi guerrieri dovettero trascinarlo per le maniche e spingerlo dalle anche, ma anche così, giunto a metà strada, egli era senza fiato. Dopo aver chiesto un po' d'acqua, che i guerrieri recuperarono da dei monaci provenienti dal monastero, l'imperatore ritirato pregò i suoi uomini di cercare di salvarsi, perché non voleva che per aiutarlo perdessero la vita. Quanto a lui, disse, si sarebbe nascosto da qualche parte. Allora, quei valorosi risposero, «La nostra vita l'abbiamo offerta a voi. Come potremmo riprendercela? Prima di assistere alla vostra fine, saremo ridotti in cenere e ossa». «Quale salvezza ci sarebbe per noi se vi abbandonassimo?» E l'imperatore ritirato su toco rispose, «Apprezzo le vostre intenzioni, ma se il nemico mi raggiungesse, da solo potrei chiedere pietà, mentre se voi sarete con me, vi battereste per difendermi». Alla fine, i guerrieri accettarono di seguire il suo volere e si allontanarono piangendo, voltandosi in continuazione verso il punto in cui lo avevano lasciato. Con lui erano rimasti solo Ie-Hiro e suo figlio Mitsu-Hiro, che dopo averlo preso per mano, lo condussero verso valle e lo nascosero sotto un mucchio di rami e lì, nell'ombra della boscaglia, li fecero da guardia. Dato che molti dei guerrieri fuggiti dal palazzo di Shirakawa si erano nascosti nel vicino Oshouji, Yoshitomo e Kiyomori lo fecero cerchiare e poi mandarono un messaggio all'imperatore chiedendo il permesso di incendiarlo per stanarli, ma stavolta Shinzei affermò che non si poteva certo distruggere un tempio di tale importanza per un motivo del genere e glielo negò. Allora, decisero di dare le fiamme alla residenza dell'imperatore ritirato a Karasumaru sul tazzo viale e quelle di Yorinaga e Tameyoshi vicino a Lenkakugi. Visto che come stavano procedendo le cose, l'imperatore fece ritorno al palazzo imperiale dove Yoshitomo e Kiyomori lo raggiunsero. Shinzei gli odò per il loro operato e assicurò che per questo loro e i loro discendenti ne sarebbero stati ricompensati. Minamoto Yoshitomo venne nominato capitano sovrannumerato delle scuderie di destra. Yoshiyasu, perfetto di Mutsu, si vide concedere le grandi entrature. Teireki Uori fu fatto governatore di Arima. Yoshitomo però se ne lamentò affermando che tale carica era stata per la prima volta occupata dal suo antenato Manju ma in fondo egli era già luogotenente sovrannumerato delle scuderie e diventarne capitano non era una grande incompensa. Dato che aveva combattuto il padre e i fratelli è che non ci sarebbe stato nulla di strano che per una tale dimostrazione di fedeltà venisse innalzato al rango di dignitario. Vennero riconosciute le sue ragioni e perciò l'attuale capitano delle scuderie di destra Takasue no Son venne nominato prefetto della città di sinistra e Yoshitomo prese il suo posto come capitano delle scuderie di destra. Fujiwara no Takasue 1127-1195 figlio di Fujiwara Ienari e della figlia di Takashina no Muniaki sposò la figlia di Fujiwara Tadataka e i suoi figli erano Takafusa Takayasu e Takamasa. Suo padre Ienari era il servitore preferito dell'imperatore Toba e lui stesso entrò al servizio di Toba nel 1133 a soli 7 anni. Allora Toba aveva già lasciato il trono venendo nominato governatore di Tajima Sanuki Echigo e Tosa e poi Samanokami ovvero capitano delle scuderie di sinistra fino a quando quel posto venne richiesto da Minamoto Yoshitomo nel 1156 per i meriti nella guerra di Ogen perciò Takasue venne nominato Sakyo no Taibu direttore della capitale di sinistra nel 1158 venne nominato Kuge ovvero nobile di corte Ienari il padre di Takafue era cugino della moglie di Taira Tadamori padre di Kiyomori e perciò fin dall'infanzia tra Takafue e Kiyomori si sviluppò una certa amicizia e col tempo fecero sposare i loro figli in modo da legare le proprie famiglie nel 1163 si ritrovò in pericolo perché il suo clan aveva appoggiato un complotto contro i Teira ma Takasue grazie ai suoi stretti rapporti con Kiyomori non ne risentì nel 1180 dopo che in seguito alla sua fallita rivolta il principe Mochito fuggì al Kofukuji all'eurognione dei Kuge indetta dall'imperatore Takakura Takasue e Tsutsimikado Michichika affermarono che il Kofukuji andava subito sottomesso e i suoi terreni confiscati scatenandone una diatriba con Kujo Kanezane nel 1182 dopo la morte dell'ex imperatore Takakura e di Teira che gli mori Takasue si farà a Monaco per poi morire nel 1185 suo figlio Takafusa essendo un fedele servitore di Goshirakawa non subirà effetti dal declino del clan Teira Quando si sparse la voce della sconfitta dell'imperatore ritirato Sutoku Teira Tadazane padre di Yurinori preso con sé i figli di quest'ultimo e si recò a Nara per spingere alla rivolta ai monaci Jinpà della Zenjuji Senkaku del Tobokuji Shinjitsu del Kofukuji Genjitsu del Togonjin e altri Jinpà o Jinkaku 1993-1164 era il diciastesimo figlio di Fujiwara Morzane durante la guerra di Ogen 1156 si vide confiscati i suoi terreni per il supporto a Fujiwara Yurinaga divenne Kofukuji Betto ovvero capo dei monaci nel 1164 e nel 1167 venne nominato dall'imperatore Rukujo quale Gojiso ovvero un sacerdote che prega per l'imperatore il figlio di Fujiwara Tadamichi Shinen e quello di Fujiwara Yurinaga Norinaga erano suoi discepoli veniva chiamato anche Uchiyama Dai Sojo Sengaku del ramo Kajugi di Fujiwara del nord era figlio di Fujiwara Morizane governatore della provincia di Tosa era fratello di Fujiwara e della madre di Fujiwara Yurinaga durante la guerra di Oge nel 1156 si schiererà con il nipote che morirà proprio nella sua cella a Kofukuji Shinjitsu era figlio di Minamoto Yuriyasu degli Yamato Genji detto Okekiyo Taro si dice fosse il più coraggioso dei monaci guerrieri ed era uno dei monaci più importanti del Kofukuji che all'epoca stava crescendo la sua potenza militare e nel 1145 arrivò a scontrarsi con Minamoto Chikaharu per l'assalto ad alcuni templi sul monte Kimpunse avendo appoggiato la fazione dell'imperatore ritriato su Toku durante la guerra di Oge si vede destituito dalla corte imperiale ma nel 1158 venne da questa nominata Okyo il terzo grango della gerarchia buddista a conferma del suo effettivo potere convocati i ribelli delle 5 province centrali dichiarò che voleva ribellarsi alla corte imperiale e Enshi figlio di Tadamichi nipote dello stesso Tadamichi che era presente fuggì fino a Kyoto per avvisare la corte si levarono molte critiche verso Tadamichi che dopo aver favorito il figlio Yorinaga al posto del primo genito Tadamichi ed essersi schierato contro l'imperatore anche dopo essere stato perdonato nuovamente progettava di ribellarsi per sicurezza venne mandato il prefetto di Suo Suizane a presidiare il ponte di Yuji Minamoto Suizane morto nel 1160 secondo figlio dei Suenori dei Montoku Genji suo padre era un servitore di Toba e perciò nella guerra di Oge del 1156 sarà nella fazione di Go Shirakawa poi poi l'imperatore Go Shirakawa ristabilì con la sua autorità il gran cancelliere Tadamichi a capo del clan Fujiwara e fece lo stesso per Kakei procuratore del Kofuku-ji mentre i monaci Jinpan Senkaku Shinjitsu e Genjitsu vennero destituiti dalle loro cariche con il favore dell'oscurità l'imperatore ritirato Su Toku uscì dal suo nascondiglio e accompagnato da Ieiro e da figlio Mitsuhiro trovato una portantina si tentò di trovare asilo presso la dama di Awa dal prefetto della città di sinistra Fujiwara Norinaga e poi da Dama Shou ma con delle scuse non li aprirono in nessuno di questi luoghi Ieiro e Mitsuhiro avevano portato loro stessi la portantina ed erano ormai esausti dopo la battaglia e le peripezie successive e ora non sapendo più dove trovare rifugio si fermarono nei pressi del Shuzoku-in dove fecero entrare l'imperatore ritirato Sutoku mandarono dunque segretamente a chiamare un monaco e l'imperatore ritirato Sutoku si fece radere i capelli anche Mitsuhiro si tagliò i capelli e Ieiro stava per fare la stessa cosa quando l'imperatore Sutoku glielo privì dicendo che l'avrebbe considerata una grave offesa dunque Sutoku decise di recarsi alla residenza del quinto principe al Ninna-ji senza farsi annunciare il quinto principe si trovava però alla residenza di Tova prendere gli onori funebri al padre defunto e quando lo venne a sapere proibì che venisse fatto entrare nella sua casa dando ordine che fosse invece alloggiato al ritiro del perore cambe e che il palazzo imperiale ne fosse subito avvertito il palazzo imperiale appena saputolo inviò Sado no Shikibu no Tai o Shikenari a fare la guardia il quinto principe è Motuito 1129 1169 quinto figlio maschio di Toba e quindi fratello minore di Sutoku il primo genito e di Goshirakawa che era il quarto figlio in seguito diventerà monaco con il nome di Kakush entrò al Ninna-ji e nel 1151 prese come discepolo il principe Moriito futuro imperatore Nijo per volere di suo padre Toba era noto per l'abilità nel recitare gli incantesimi durante i rituali per il benessere della famiglia imperiale e della nazione era anche un ottimo poeta e compilò una raccolta intitolata Shukan Shu Minamoto no Shigenari morto nel 1160 figlio di Minamoto no Shigezane e fratello di Shigetada e Shigetou era governatore della provincia di Omi nel 1131 venne nominato vice ministro della guerra e combatté nella guerra di Oge per la fazione di Go Shirakawa di Omi di Omi di Omi di Omi